Banco BPM analisi mensile aprile 2021 buongiorno buona settimana a tutti ecco l'aggiornamento su Banca BPM Banco BPM questo anche questo è un po' che non aggiorniamo credo da novembre dicembre vediamo che cosa è successo negli ultimi mesi vedo già qualcosa di molto interessante prima di cominciare mi raccomando un bel mi piace al video gesto gratis per voi molto importante per me e gli appuntamenti li ricordo tutti i giorni alle 14 sull'azionario mondiale lunedì sera materie prime venerdì sera etf se qualcuno di voi ha qualche domanda dubbio o qualche richiesta su analisi specifica lo scriva nei commenti cercherò di accontentarvi bene dunque avevamo segnato abbiamo segnati due target e tre livelli di entry ci sono un po' di cambiamenti perché allora questo primo livello di target in area 2.10 è stato rotto a rialzo era un massimo venduto del massimo di gennaio 2020 venduto a febbraio quindi questo è stato sconfitto diciamo rotto al rialzo già da già quasi da questa candela di febbraio di due mesi fa ma poi in particolar modo dalla candela del mese scorso di marzo appunto e come dicevamo di di marzo e quindi leviamo questo livello eccoci qua e ne abbiamo creato uno nuovo però perché la candela di marzo 2021 compra i massimi di febbraio 2021 guardate tra l'altro strecciamo un attimino il grafico guardate tra l'altro intanto dove si va a fermare la candela di marzo la candela di marzo si va a fermare sul secondo target il minimo di luglio 2018 venduto ad agosto e ritestato poi con la candela di febbraio del 2020 la candela di marzo finisce proprio proprio a ridosso di quel livello e poi la candela aprile rivende proprio quel livello lì fermandosi anche egli proprio sul massimo comprato del mese scorso quindi marzo su febbraio quindi livelli che funzionano tantissimo quindi che livelli abbiamo aggiornato questo massimo comprato andiamo ad aggiornare questo massimo comprato livelli dove sicuramente può succedere qualcosa quindi titolo che sta cercando di mettercela tutta per recuperare recuperare una situazione abbastanza compromessa e vediamo vedendolo un po più da lontano questa è l'ultima parte dal 2016 vediamo come il titolo era orientato abbastanza pesantemente al ribasso e dal 2020 praticamente stia cercando di recuperare con una serie di rialzi abbastanza importanti tra l'altro anche insomma cosa degna di nota che non è successa su tanti altri titoli vediamo come il prezzo si è riuscito a uscire dal range della candela di marzo che aveva un po insomma fatto da padrona che ha fatto che sta facendo un po da padrona su tantissimi titoli questo titolo è riuscito a spingere il prezzo sopra il massimo della candela di marzo addirittura comprando massimi e quindi insomma dandoci un po più di fiducia siamo arrivati su un target importante 242 andiamo a segnarci un altro target successivo che è sicuramente esattamente abbiamo questo livello molto importante perché perché 274 segna questo massimo venduto corrispondente al minimo venduto di maggio 2018 su aprile vedete qua e vedete qua quindi questo sarà sicuramente duro da superare e superando sicuramente questo livello questo target andando a quotare stabilmente qua sopra e poi successivamente sopra questo swing 350 sarà proprio il la conferma che il titolo potrebbe anche aver iniziato una nuova insomma sorta di vita ecco quindi adesso siamo ancora un pochettino distanti però vedete come in questo momento il titolo stia andando a segnare un massimo più alto di questo in realtà di questo swing qui abbiamo ancora questo questo massimo che è una spike un po a sé stante però ancora insomma potrebbe anche questa fermare il prezzo in maniera insomma abbastanza decisa quindi diciamo che per decretare un'inversione un po più significativa dobbiamo vedere il prezzo quotare sopra 270 280 insomma sopra questo livello qua aprile appunto sta vedendo il prezzo di nuovo arretrare che però viene fermato da questo livello comprato di 2 21 nel caso in cui il prezzo continuasse a scendere quindi continuasse la sua diciamo direzione verso il basso avrebbe quest'altro livello a 1 98 1 99 quanti quindi molto prossimi alla cifra tonda dei 2 euro e poi una serie di minimi mensili e poi appunto questo questo secondo livello 1 70 per il momento ci fermiamo su questi livelli non andiamo ad aggiungere altri livelli perché come dico spesso segnare tanti livelli e come non segnarne nessuno questi sono i livelli più prossimi al prezzo attuale che ci danno delle informazioni su in che ambito in che modo agire che tipo di approccio avere e che tipo di che tipo di insomma direzione potrebbe avere il prezzo nel prossimi nei prossimi giorni nelle prossime settimane quindi ci devono bastare questi livelli che poi eventualmente verranno modificati e aggiornati in base a quello che succederà chiaramente con la chiusura del mese di aprile e eventualmente anche il mese di maggio quindi poi questo si vedrà in divenire abbiamo quindi aggiornato insomma un paio di livelli e direi che per quello che riguarda la situazione attuale è tutto tenete a mente i suggerimenti dati in merito al fatto che il titolo vada stabilmente a quotare qua sopra se così non fosse potrebbe esserci un arretramento anche deciso teniamo conto che gli indici sono sui massimi sembra che non riescano a comprarli questi massimi almeno per il momento siamo in una fase di consolidamento sia degli indici americani che degli indici che del fib quindi chissà se da questo consolidamento verrà fuori di nuovo un rialzo oppure in realtà come forse più più insomma come si può dire più probabile un uno storno un po più significativo che andrebbe poi insomma ad alimentare eventualmente da livelli più bassi ad alimentare di nuovo acquisti significativi quindi vediamo nel caso appunto nel secondo caso di un di uno storno più significativo avremo anche il prezzo chiaramente delle azioni che potrà stornare significativamente e darci la possibilità di rivalutare eventualmente degli acquisti su dei livelli più bassi quindi 1,98 quindi anche 1,70 vediamo lo vediamo in corso d'opera lasciamo agire il prezzo lasciamo che il prezzo lasci il segno sul grafico e ci dia ulteriori informazioni anche per banco bpm l'aggiornamento è tutto mi raccomando non esitate a scrivere qualsiasi tipo di richiesta nei commenti grazie e a presto